Tecnolegno Tecnolegno Vuoi cucire e stirare? Claudio Baldarelli ha tutto ciò che serve. Vendita e assistenza tecnica a macchine da cucire industriali e per uso domestico di tutte le marche. Ferri e tavoli da stiro, professionali e industriali. Ti aspettiamo in Via Furlo 30 a Calcinelli. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata di Guarda Chi C'è, ci troviamo a Mondavio presso l'hotel-ristorante La Palomba. Vi presenteremo i weekend gastronomici organizzati dalla ConfCommercio di Pesaro Urbino. Nel particolare vi andremo a presentare una ricetta tipica di questo bellissimo ristorante. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie al settore di ConfCommercio, Amerigo Varotti. Ciao, buongiorno. Salve. Di cosa parliamo? Dei weekend gastronomici che sono già iniziati a fine settembre e partiranno e continueranno fino a primo dicembre. Sì, i weekend gastronomici, soprattutto l'edizione autunnale, è la manifestazione di punta nel settore dell'enogastronomia che la ConfCommercio organizza da ben 36 anni. Anche questa edizione autunnale vede la partecipazione di 60 ristoranti che fino a primo di dicembre propongono ai consumatori della nostra regione, ma anche delle regioni vicine, perché abbiamo richieste anche da altre regioni, propongono dei menù particolari a un prezzo assolutamente promozionale. Quindi un prezzo già fissato, un menù già fissato. Noi andiamo alla riscoperta dei paesi, dei luoghi, avventura culturale, natura e buon cibo. Sì, l'abbinamento enogastronomia e beni culturali, ambiente e territorio è probabilmente la soluzione, l'abbinamento che ha fatto la fortuna dei weekend gastronomici. In fondo sono iniziative che riguardano l'entroterra della provincia di Peso Urbino, quindi in questa edizione autunnale, così come in quella primaverile, escludiamo le località della costa. Peso Urbino proponiamo dei percorsi, degli itinerari nell'entroterra della provincia di Peso Urbino, che molte volte vuol dire anche riscoprire o scoprire per la prima volta borghi, cittadine che sono normalmente ai margini dei percorsi turistici. La possibilità quindi che offriamo al turista, al consumatore, è quella di vivere un'esperienza a contatto con il territorio più vero della nostra provincia, gustando le prelibatezze del nostro territorio. I nostri ristoratori da questo punto di vista hanno capito la richiesta che faceva ConfCommercio. Cioè noi proponiamo un menù promozionare a un prezzo che prefissiamo noi, indichiamo anche i vini che debbono essere vini della provincia di Peso Urbino, però chiediamo al ristoratore di proporre dei menù particolari, non il solito primo, secondo, frutta e verdura. Qualcosa tipico della zona. Qualcosa tipico, qualcosa di tipico, come ad esempio ha fatto il 13 ottobre scorso il ristorante La Palomba qui di Mondavio, quindi riagganciandoci un po' alla nostra tradizione gastronomica. Però ecco, la fortuna, e lo ripeto perché credo che sia la cosa più importante di questa manifestazione, è l'abbinamento tra la gastronomia e il territorio. Noi abbiamo nella provincia di Peso Urbino dei luoghi stupendi, io li chiamo i luoghi della bellezza, che meriterebbero di essere visitati e conosciuti da tutti gli italiani. Noi abbiamo la presunzione con i weekend gastronomici di fare conoscere buona parte del territorio. Peraltro, all'interno abbiamo anche inserito l'altro nostro progetto, che sono l'itinerario della bellezza, che comprende alcuni tra i comuni veramente più belli della nostra provincia. Sì, perché poi comunque la provincia è ricca di borghi, molto interessanti, alcuni sottovalutati, mentre sarebbero da visitare veramente. Questo è un input in più per vedere questi posti. Sì, come dicono quelli bravi, i tecnici, la nuova astronomia è uno dei plus del mercato turistico italiano, un valore aggiunto. Noi abbiamo una provincia ricca di borghi, ricca di storia, di cultura, ma abbiamo anche tanti ristoranti che hanno avuto un'evoluzione incredibile negli ultimi decenni. E propongono veramente i piatti della tradizione, legati anche alle produzioni agricole locali. Quindi i weekend gastronomici hanno una triplice funzione. Valorizzare il territorio, valorizzare il ristorante, ma aiutare anche i produttori locali a vendere i propri prodotti direttamente al ristorante. Quindi il consumatore che sceglie e prenota i ristoranti nei weekend gastronomici utilizzando questa brochure. Questa piccola brochure che è molto completa tra l'altro, perché io ho visto e leggevo che bisogna prenotare almeno due giorni prima. Sì, perché il prezzo promozionale è dovuto anche al fatto che il ristoratore il giorno che ha scelto sa quanti clienti ha, quindi acquista i prodotti e fa i piatti in base alla clientela che ha. Anche questo è un modo serio di rapportarsi con il consumatore, al quale noi diciamo fin dall'inizio cosa mangia, quanto spende, cosa beve e quanto spende per bere. Oltre che a dargli indicazioni sulle cose che può vedere nella località. Amerigo, tu ci parlavi degli itinerari della bellezza, in cosa consiste? L'itinerario della bellezza è un progetto che ConfCommercio ha realizzato, siamo già al secondo anno, in collaborazione con alcuni comuni della provincia di Piesa Rubino. Comuni che hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio culturale, artistico, ambientale, no gastronomico, utilizzando la ConfCommercio che è l'unica associazione nella nostra provincia, ma forse anche a livello nazionale, che si occupa da sempre di promozione turistica, di valorizzazione del nostro patrimonio. Al momento, 2019, sono otto i comuni che partecipano a questo nostro itinerario, ai quali garantiamo una visibilità nazionale e internazionale attraverso la pubblicazione di una brochure, la partecipazione a fiere in Italia e all'estero, un'attività di comunicazione costante sui social, sul web, blog. E' un progetto che sta piacendo molto, stanno già lavorando per l'edizione 2020. Quindi sempre più aderenti al progetto stesso, vedono che funziona e che piace. Sì, che funziona. Saranno altri comuni che parteciperanno all'edizione 2020. Parliamo sempre della provincia di Piesa Rubino. Sempre alla provincia di Piesa Rubino, anche se abbiamo richieste anche dalla provincia di Ascoli Piceno e dall'Umbria, che hanno visto questo nostro progetto e ci hanno coinvolto per vedere di realizzare un progetto analogo nelle loro terre. Il progetto è registrato, poi il problema è che non c'è nessuna altra organizzazione che ha la struttura che abbiamo noi in grado di fare attività promozionali in Italia e all'estero. Noi abbiamo un tour operator di nostra proprietà da 22 anni e quindi da 22 anni giriamo il mondo per promuovere la provincia di Piesa Rubino. Abbiamo una struttura interna con personale che è addetto alla comunicazione. Stiamo investendo molto nella promozione del territorio e non c'è veramente nessun altro che fa quello che facciamo noi. Per questo nell'edizione 2020 avremo, oltre agli 8 comuni attuali, altri comuni che stanno entrando in questo progetto. Abbiamo già presentato l'itinerario romantico che è una prosecuzione dell'itinerario della bellezza e a novembre presenteremo l'itinerario archeologico che comprende alcuni comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza più altri comuni che sono entrati in collaborazione con noi per l'occasione. Il progetto tra qualche giorno sarà presentato a Pestum, alla Borsa del Turismo archeologico, per cui sarà un'altra opportunità per la promozione turistica del nostro territorio. Una bella vetrina per il nostro territorio questo. Assolutamente sì. Approfittatene quindi. Grazie. 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 Allora, siamo qui a Mondave, al ristorante La Palomba, con noi c'è Adele Cerisoli, la famiglia che gestisce da oltre 30 anni questo ristorante e albergo. Voi avete partecipato ai weekend gastronomici e cosa avete proposto? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Abbiamo proposto un menù a base di tartufo e diciamo anche di prodotti tipici o perlomeno quelli che rispettano un po' la tradizione delle marche. Abbiamo proposto come un tipasto uno sformattino di patate e tartufo, poi del risotto sempre mantecato con zucca gialla e tartufo nero e poi delle tagliatelle con misto di sottobosco. Qua oggi vi faccio vedere poi quella che è la seconda portata, la pasticciata, la pesarese con la gallina in umido e sono proprio, fanno parte proprio del nostro patrimonio culturale e gastronomico. Piatti tradizionali, no? Piatti tradizionali. Abbiamo visto una buona partecipazione a quell'evento e quindi si riproporrà anche il prossimo anno, no? Sì, ormai per noi è un appuntamento fisso da quasi 25 anni, quindi quasi dagli inizi della nostra attività. Siamo stati, possiamo dirlo, anche tra i primi a aver partecipato e sempre con buoni risultati, specialmente nell'edizione dell'autunno. Anche in primavera stanno prendendo più dei weekend gastronomici. In effetti l'edizione autunnale dei weekend gastronomici è quella più fortunata, quella che garantisce una maggiore presenza dei consumatori nei ristoranti. E d'altra parte, essendo un'iniziativa che riguarda l'entroterra, è notorio che i sapori dell'entroterra sono sapori più forti, più corposi, che ben si addicono al periodo autunnale. Quando la gente è finita la sbornia estiva del mare, incomincia a riprendere il percorso, a ritornare a vedere l'entroterra, a visitare questi nostri borghi e a trovare un ristorante come la Palomba, che è un ristorante tradizionale, che fa cucina tradizionale, ma con una grande capacità innovativa ed è uno dei ristoranti più fedeli a questo progetto che la Conf Commercio porta avanti da 36 anni. Oggi io volevo farvi vedere come prepariamo i tacconi, che sono questo piatto tradizionale di Mondavio. Questo piatto ci rappresenta anche un po' e è anche molto conosciuto. Viene preparato con della farina di fave e della farina di grano duro normale. La farina di fave naturalmente usiamo quella dei Lubaki di Fratterosa, perché ha il presidio Slow Food, la favetta è stata riconosciuta con il presidio Slow Food. Vi do gli ingredienti per quello che può essere necessario per farne una sfoglia, quindi per tre o quattro persone. La ricetta che andiamo a proporvi sono i tacconi allo sgaggio, e sono quelli un po' più forti, un po' più genuini. Proprio sgaggio, no? Sì, sgaggio viene dal fatto che viene soffritto il lardo con l'aglio, e quindi lo sgaggiare, quindi loro che fa il soffritto, che si crea da questo rumore, da sgaggiare dagli aletti. Con l'aggiunta di un guanciale croccante, quindi è una ricetta abbastanza, diciamo, corposa come sapore. Magari può piacere o no, lo si ama o lo si odia. Ma sì, piace, piace, garantisco. Allora abbiamo messo 200 g di farina, quindi di fave, 200 g di farina di grano duro, poi abbiamo aggiungere un pizzico di sale, un uovo, Merigo, vuoi dare una giratina? Prego. L'unica cosa che so fare io, insomma. Cioè si fa sempre così? Sempre così. Poi abbiamo, andiamo ad aggiungere un bicchiere di acqua calda, ben calda. Quindi è un impasto, diciamo, povero, perché rappresentando un po' quella che è la nostra antichità, gli ingredienti erano quelli della casa, insomma, della casa contadina, ecco. Comincia a prendere il corpo. Ci mettiamo ancora un po' d'acqua, perché non è che gira molto, eh. Ecco. Deve essere comunque un impasto bello duro, eh. Quindi andiamo a impastare. L'impasto dentro la ciotola è voluto? Perché di solito si spiega sulla spianatoia. Allora, qui sono solo, diciamo, gli ingredienti per una sfoglia, e quindi magari nella panara si disperdono anche un po' gli ingredienti. Però, no, di solito noi la facciamo sulla panara, insomma, anche perché le quantità sono diverse. Poi andiamo a spostare qua. e la andiamo a lavorare per un po'. Allora, questa è la pagnotina, e sarebbe bene ungerla con un pochino di olio extravergine, e poi si può anche lasciare riposare una mezz'oretta, così si agevola nella stesura. Allora, Adele, passi a fare la sfoglia. Dicevi che questa non è come l'impasto solito, quella con il grano, ma un pochino più... Sì, più rubida, sbriciolosa, sì, bisogna fare attenzione. Più attenzione. Non romperla, naturalmente, non è... I tacconi non vanno fatti come le tagliatelle. Quindi non la farai sottilissima. Un po' più in moda di tagliolino, diciamo. E non si spinge neanche tanto come si fa sulla pasta... Perché si spezzerebbe. ...delle tagliatelle, perché si spezzerebbe, sì. Vanno fatti anche, anzi, un consiglio che può essere fatto per... a casa, di fare le sfoglie abbastanza piccole, non molto grandi. Saliamo l'acqua. Mettiamo a cuocere la pasta. Giriamo. E lasciamo cuocere per qualche minuto. Allora, qui quindi abbiamo il lardo soffritto con aglio e abbiamo aggiunto del guanciale. Andiamo a tirare sulla pasta, ormai a cottura ultimata. Scoliamo. Giriamo in modo tale da lasciare bene abalgamare il sugo con la pasta. E il piatto è pronto. Mettiamo una bella grattata di parmigiano, ma anche di pecorino, se li vogliamo ancora più saporiti. Et voilà! Ai tacconi preparati da Adele, abbiniamo un rosso straordinario, Castel Suasa, che viene dalle cantine Savelli di Santa Andrea di Suasa. Un vino eccezionale, questa è l'annata 2011. e lasciamo cuocere un alzare. Grazie per averci seguito, ringraziamo i nostri sponsor Fano Center, Tecno Legno Tavoli e Sedia, Remax Orizzonti e Cenerelli Parchè Inoltre ringrazio Letty Fashion di Fano per il mio abbigliamento e quello di Sonia Vi diamo appuntamento alla prossima puntata Guarda chi c'è, c'è qui con me Guarda chi c'è, c'è qui stasera con me Una produzione Zarri Comunicazione Tecno Legno Tecno Legno arreda la casa, bare e alberghi Con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata Tecno Legno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti Direttamente dalla fabbrica al consumatore Visita il nostro showroom Tecno Legno, tavoli e sedie Autoagenzia Buldrighini, presto, bene e ti conviene Passaggi di proprietà Targhe ciclomotori Duplicati, rinnovo patenti in sede e tanto altro Buldrighini è in via 27 agosto a Fano Vuoi cucire e stirare? Claudio Baldarelli ha tutto ciò che serve Vendita e assistenza tecnica a macchine da cucire industriali e per uso domestico di tutte le marche Ferri e tavoli da stiro professionali e industriali Ti aspettiamo in via Furlo 30 a Calcinelli Grazie a tutti